Il prossimo 31 agosto saranno esaurite le disposizioni emergenziali, non saranno quindi prolungati i loro effetti nell'anno scolastico 2022-2023. È quanto emerge dal comunicato inoltrato ieri dal Ministero dell'Istruzione, attraverso il quale si conferma in ritorno a scuola di insegnanti, personale ATA e amministrativi che decisero di non ricevere alcuna dose di vaccino anti-Covid. Dal 1 settembre scadono infatti gli obblighi di vaccinazione per l'intero personale scolastico e quindi non ci saranno più destinzioni tra SIVAX e NOVAX. Nella provincia di Piacenza non si sono manifestate troppe defezioni, ma dallo scorso 15 dicembre 2021 le direzioni scolastiche dovettero comunque fare i conti con la normativa e con le conseguenti sospensioni e sostituzioni di chi decise di non vaccinarsi. All'interno della circolare del MIUR si precisa però che certe regole resteranno in vigore, come il divieto di accedere nelle strutture scolastiche con sintomi influenzali o con febbre superiore a 37,5 gradi e attenzione particolare verso l'igiene personale. Le scuole inoltre provvederanno alla sanificazione ordinaria e straordinaria delle classi e a disporre i ricambi d'aria frequenti.